Sono Giovanni Tizian, sono giornalista dell'Espresso, mi occupo di attualità e inchieste su il crimine organizzato. Con l'Espresso abbiamo dedicato una copertina proprio ai ragazzi tolti, alle famiglie mafiose e nasce proprio da questa attenzione verso i territori, verso i minori, verso i ragazzi che subiscono l'indottrinamento dei capi mafia, che è nata l'idea di scrivere questo libro. È un mondo che noi dobbiamo conoscere, perché lo dobbiamo a questi ragazzi che devono avere un futuro in questo paese. Quegli adolescenti che se riescono ad avere un'altra possibilità non vogliono più tornare in mano ai loro padri, che spesso sono gli stessi che li arruolano nella mafia calabrese. Ed è proprio questa la grande rivoluzione, intendere l'antimafia non solo come una questione di ordine pubblico, di arresti, di sequestri, ma è provare a dare un'opportunità a chi un'opportunità non ce l'ha.